Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla statale 223 di Paganico proseguono fino al 2 settembre gli interventi di miglioramento della Galleria Casal di Pari all'altezza di Civitella Paganico in provincia di Grosseto. A Firenze fino al 26 luglio resterà chiusa via San Bartolo a Cintoia all'altezza del Civico 26. Autolinea Toscane avvisa che domani, domenica 21 luglio, per lo sciopero del servizio traghetti da e verso l'Elba, il servizio di trasporto pubblico a Piombino e all'Elba potrebbe subire ritardi, rallentamenti o soppressioni. Ed è tutto, buon viaggio!